Buonasera amici ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Dottor Newrante e la Dimensione Oscura. Questa sera abbiamo il privilegio di ospitare un grandissimo maestro del cinema alternativo per la serie Cinema di Casa Nostra, Cinema Comunicativo, Cinema Produttivo, il grandissimo Lucas Banefsasson. Buonasera maestro. Buonasera maestro, buonasera a lei. Il maestro è venuto a presentarci la sua prossima opera che andrà in onda in tutti i cinema mondiali e sentiamo direttamente dalla viva voce del maestro un po' il soggetto dell'opera, la storia e i vari intrecci. Prego maestro ci dica. Sì, presenteremo appunto questo film che si intitola Che Guevara Ed è un film impegnato, un film, una storia d'amore tra lui e questa parrucchiera di Buenos Aires Lui? Lui, il nostro protagonista Che Guevara è Ernesto Che Guevara che è un meccanico, un meccanico dell'Havana Liberamente ispirato? Sì, veramente ispirato esattamente e c'è quest'intrecci amoroso appunto con questa parrucchiera un po' di trucco, un po' di parrucco poi subentra quest'altro protagonista che è un ortolano tailandese anche lui ovviamente ben dotato ovviamente e c'è appunto questo intrigo, questo intreccio colpo di scena fino a qui non svegliamo il maestro ovviamente vuole tenere alcuni segreti alcuni per sé ma maestro lei ha già detto comunque che ha intenzione di girare un seguito di questo film perché comunque già dalle prime battute diciamo che ha già capito il successo di quest'opera esattamente esattamente ci dica, ci dica un film tra cui il sequel di questo qui che si chiamerà Papà Terza Gamba Papà Terza Gamba che poi in pratica narrerà le vicende anche del padre quindi la dinastia come si è giunti esattamente la dinastia dei Cenevatta ah, quindi scopriremo e scopriremo tutte queste cose non voglio svelare tutti i retroscena hai ragione infatti rimando il pubblico al cinema ovviamente a gustare questa prelibatezza va bene ringraziamo il maestro per la sua squisitissima presenza e vi rimandiamo diciamo alla prossima volta con un altro eccellente regista e vi invitiamo ad andare al cinema qui il maestro Lucas Vanesson Dottor Newland per voi che l'oscurità sia con voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti